in questi mesi abbiamo lavorato sodo sudato lottato sofferto vinto perso abbiamo sempre dato il massimo senza mai arrenderci volevamo assolutamente raggiungere questo obiettivo i playoffs e ce l'abbiamo fatta per noi per voi che ci avete sempre sostenuto ora vi chiediamo di continuare a farlo perché siete la nostra forza siete uno di noi vi aspettiamo al palacredito perché tutti insieme possiamo farcela